Enrico Berlinguer nasceva a Sassari il 25 maggio 1922, lo stesso anno della marcia su Roma. Ho scritto questa breve riflessione in forma di cartolina per davvero affrancabile e spedibile per i tipi della coppola editore che fa parte della Marotte Caffiero, la casa editrice basata scampia e guidata da Rosario Esposito La Rossa a cui siamo molto legati. Dentro questa breve riflessione un riferimento all'intervista che Enrico Berlinguer nell'81 concesse a Eugenio Scalfari sulla questione morale, dedicata soprattutto a quei giovani che oggi si affacciano all'impegno politico. Qual è il nodo della questione morale? Una politica che perda le idee ortopediche, le idee in politica sono ortopediche quando danno la misura del successo, dell'insuccesso, quando danno la misura del cammino da seguire, delle battaglie da fare. Quando la politica perde le idee ortopediche resta soltanto la gestione del potere, il clientelismo, il correntismo, l'arrivismo, mali che uccidono la politica e quindi la Repubblica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!